Salve a tutti amici e ben trovati sui vostri midterri ed eccoci qui per un episodio di Crusade Kings 3 Il desiderio che ho accorto con il nostro Basileus Costantino VI Grande imperatore che sta riconquistando un po' quello che è il suo vecchio territorio e anche di più Perché aveva meno ragione della Francia, ha preso qui la zona all'irà del Danubio La rabbia è quasi tutta nostra, quindi ragazzi siamo venuti molto bene, presto vorremmo anche prendere tutto qui La mia saluta mia è distanza nuova, però è forte, c'è 21.000 uomini, com'è possibile? House of Guards ha 16.000 leve, quest'uomo, non so come li ha Non so come li ha Intanto oggi voglio fare due cose, tutto cerca di arrivare al livello 3, per avere più leve E forse potremmo fare, che la salita un po' tutti mi vogliono bene, parte va là, che è pericoloso Vabbè, c'è qualcuno di stamane, ma ci penseremo Tu si puoi sposare? Sì Prima cosa, matrimonio, siamo un conto Maites, quindi Ok, nostra vita è 5 anni Your Daughter 5 E lui Sono due del contone, quindi facciamo questo matrimonio per Carmarlo, e così lui non potrà Attaccarci, che è una uomina uomini, molto potente E così non so evidente anche Regina di Borgogna Lui ha perso un 51 Ok Alleanza fatta E sta aumentando Per effetto, mancava solo questo uomo qui, che non so se vuole la Vallache Che ha pure bulgaria Questo mi dà fastidio E ha due figlie femmine, di quelle l'era e le quarantenne E poi hanno dei figli maschi Lei ci vuole bene, è lui che non ci vuole tanto bene, perché? Arroganti, paziente Vuole un po' solo nel concilio Anche Poverful Vassal Offensive War Arrogante contro umida E un po' di problemi ci dà Facciamo uno swear su quest'uomo Starskim E iniziamo oggi a lavorare a mente con molta giustizia Ci facciamo se bene o niente Barsil Sei circa un amico mio Ti vuoi arrendere? No Io un po' se posso massalizzare quest'uomo No, per 72 Perché non so Lato Fuligi Lui è un re Cultura, bla 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 Tanti problemi Qui c'è la Germania? C'è Miden Un regno cattolico saxone E la Germania scom... Ah, ancora qui è Ma ti volerei con me, fratelli Dai, su Ransom di 100 Paga, quittà ne ha paga Ah, la quittà ne ha paga, ragazzi Allora, altro passo che voglio fare È migliorare le nostre troop Arrivare al massimo Catafratti al massimo Pikmin al massimo Cresce bene Il nostro Costantino Al massimo Spediamo un sacco di soldi Ma così avremo una grande forza militare Altro c'è per Gerusalemme E lui è ortodosso È lui, sì Perché sembra diverso Vabbè, c'è una crociata Però i cattolici sono davvero pochi Lo studio è morto E mettiamo lui Che è un 12 Perfetto Tu puoi fare Non so, pochi territori Ho proprio una cottura Ho l'accelerazione della cultura Eeeh Cosa puoi fare Collect tax Fa un po' più soldi Adesso non voglio fare altro Qui c'è un altro da fare Sì Lei ha 22 anni Lui ha 16 anni Però va bene così Noi come sono scopri stato Non mi sono accorto Siamo di V-Legend E Icona dei Giosi Però siamo al massimo di tutto Eeeh Continuo qui La militarizzazione al massimo Arm of footman Non le abbiamo Abbiamo due Pikmin Che però sono ottimi Come soldati Qui 19 Sono otti che sono buoni Molti territori E poi sì qua Manca nel problema Anche dei studi Quindi aspettiamo un attimo Va bene Siamo a 50.000 truppe Spendiamo quanto noi? Quanto spendiamo? 16 20 30 30 40 50 60 60 60 60 Del mese Spendiamo 84 Sostate Eeeh Poi pensate poi Come migliorare le nostre città Perché abbiamo Contegai No Tu ci fai chi dopo Evangelio C20 Quando finirò Magari il tratto Che Scendo per ora Potevo anche Voluntare Al All'architetto Lui è un ottimo Architetto Per essere E Ha 39 anni Non lo so Sostate che Potremmo arrivare Qui 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 Potremmo fare la fine stratega Che è un ottimo tratto E può puntare a quello economico Va bene Lui vuole un posto Il proprio clemente Che vuoi Il proprio clemente Che vuoi Tutto io devo fare Tutto io Devo fare I soldi I soldi commentano Città Andiamo un po' La nostra città Allora Messina Ci dà 4 Sì Cosa 4 6 Poligos 11 Malta 5 G20 5 Costa 20 Roma Sono 15 Roma Palermo 6 Calibro 6 3 10 Modena Perché Modena è mia E Bacu 3 2 Perché Modena è mia Scusate Ah perché c'ho qui La Ferrari a Modena Vedete che io faccio La Ferrari a Modena E poi Perché c'ho Modena Non l'ho mai capito Perché c'ho Modena Le mie è tutta questa C'ho Modena Così a caso proprio Sbuffo Ti piace quella A Ferrand Su Crane No Verona Non sarebbe bene Di più di Venezia Lombardia Poi è bello La Provenza Tanta roba Toscana Ci prendiamo tutto O il Friuli No Prima anche lo Seclain Scela di conquistare E rinificare Tutti i pezzi Del Regno L'Impero Però vi fai Quella Analosia Ora come ora No per Sevilla Per Aragon Castiglia Aragon fa parte Di Valencia Castiglia Castiglia A parte di Asturia Quindi c'ho Questa Coricciola Sì Facciamo quella Santa Che se ne frega Questa parte Qui Vediamo un po' L'Asturia Quanto è No Però vuole Conquistare Tutto Qui Incezamento Oppure Conquistare Questi Al nord No Poverina Già in guerra Con Viscaia Invece Non so Io Non ti occupare Viscaia Fa parte No Fa parte Della Navarra Declar of War Cantabria Questo pure Che ha 2000 Uomo Attenzione Sì Che sta al nord Questo è un bel problema E Declar of War L'Asturia Galizia Che se può Perché ci sarebbe Una bella Cioè Un tologo sacro Attacchiamo Attacchiamo ragazzi Così Di cattiveria E allora Contrattando Sì Sarà difficile Andare 5 Navuomini Quindi Facciamo una cosa Mettiamo qui Un punto di raccolta Mettiamo qui Tutti Le ramassi Rise All Here Vediamo un po' Quando spendiamo ora La crociata può aspettare Passano un bel po' Di tempo Sono anche inferiori Quindi Lui è la nostra corda Il nostro figlio Ci ha ritenuto omaggi Bravo figliuolo Qui 3 mesi E molto il jester Mi spiace Mi spiace Per il jester Artette fatti Qua si ripara Pramovadetti Non mi interessa Questo 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 Mi manca Lo distruggere Dai di questo Enjoy yourself Divertiamoci con bucefalo Sì Ci siamo Divertiti con Cipro Ok Facciamolo Ok Là sono tutti fatti Manturo Mazziale E mettiamo Questo E mettiamo La metano F-25% Allora Splittiamo La fiscia qua Allora Quelli più grossi Sono questi Andiamo Andando Sì Andiamo Ad attaccare Mentre Questi Non Braganza Stanno scappando Bravissimi Scappate Fin che potete Oh Meno 10 Attenzione No 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 Che è sta cosa Walking dead Dog For 10 anni Ghost Fit And pa Vai Vai Colpisci Medi un bus Ottimo Questa cosa Ho qui Ciò No no Non posso Perdere Sono arrivati Non ce l'ho fatta Oh Quanta Accredittura Dello si Vai 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 Veloce 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 Quante Non ho perso Oh Così forte Questo è Andalusia È forte E loro I miei alleati Dio cosa vuole Eh Questo libro Non vedo Nessuno Come devo Dirvelo Notaringia Contro Andalusia Assolutamente E anche Tu Andalusia È più forte Ma io penso che Anche Valenza Così quasi Dove Valenza Ma ecco qui Che cosa Tiri Valenza Roma Andalusia Assolutamente Ma qui Vediamo C'è È forte Lui Complimenti Non mi aspetta Così potente Devo dire Ci fa male Tanto male Vediamo Vediamo Per lei Nostra moglie Vai tu Allianza Con Nikos Nikos Alleanza E due sconfitte Non me Non me L'aspettavo Quello È tutto Euforico Dove Andate In Francia Addirittura Addirittura In Francia Può Se Non 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 Mi Mi Sono Fatto Fregar Devo Dire Allora Andiamo Nel Group Al Massimo E Metto Qua Io Stavolta 46 Faccio Io Perché È Il Vero Basileus Qui Però Abbiamo Solo 32 Mila Uomini Impro Offense Impro Defense Sì Però Mi fanno Come Dice Per esempio Gli Aravi Quando Attaccavano Uno Conquistare Tutti Gli Alt Attorno Pace Sopri Mi Imparare La Lingua Inizio Questa Guarda Qui Enforce Demand So Be Hit Qui Sono Alleati Fili Popoli Neutral La Pregura È Vinta Per Andarlo Sto Deve Vagare Rieniamo Ci Qui Aiutiamoli Aiutiamoli Ah come Sono forti Questi Oh No c'è lui Come generale Porca miseria Dai dai Su Su Dove sono Non penso Faremo Li order Sì Come Giusalem No Sotto Impendate Con la Croce In Giusalem Maezio Marcellane Ne abbiamo Di Potenti 2.000 Però Non fanno Niente Ho Beato Tutta la Cartagine A Valencia Ho Beato Tantissimo È Già Finita La Guerra Che Devo Fare Oh Ma Che Foto A Ringia Si Sta Grattà Toscana Andalusia Assolutamente Altro Non mi Interessa Qualcuno Di Buono Despota Di Mesopotamia Io Qui Le Mazzulo Sono Già Meno 58 Addirittura No E Molte Cancelle Giusalem No 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 Che Sette Però No Dai M Sotto Ducam Medeo Lombardia Scusa Allora Qua sono Antigua Mia Stiamo Presidendo Un sacco Di Uomo In Frattempo Coppa Di Valencia Io Vado La Capitale Ho Capito Tarragona Un Lungo Viaggio Lui Sta Qui A Combattere La Muglia In Carcere O Di Fazione Che Ho Perso Le Guerre Se Voglio Profittare Liberty Faction You Fret Me My Lady No 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 Assolutamente Liberty Faction C'è Button Spoleto Sono Sono Diciamo Debboli So Che Pesso E Lo Fanno In Scalto Capito Che Bello Che Sono Così Caruccetti Compense Io Dagli 300 Ma Non Non Per Scalto Sono Un Cane Dai Per Piacere Lo Vuole Un Post Che Despo Di Maximo Di Jazira 915 1017 Aspettiamo Un attimo E poi Gli do Il post A Prendere Quello Lì Andiamo A Valencia Perché Qui Jazira Jazira Perché Sei Qui Ah Che Cordoba Uh Perché Non Si Si Vado Da Noi Non Il capitale Va Meno 71% Avevo Tanto Cosa Di Quei Sconfitti Inutili Task Finished Converti Qui Controllo 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 Eh È un po' Tutto Nel Questa Run E Allora Allora Questa Do Vedere Meno 59 Non Preso Nessuno Allora Iniziamo A salire Andiamo Malagon 3.000 Forze Io qui Ho 31.000 Vabbè Quante cose Abbiamo Qui Quante cose Conquisto In pochi giorni Ottimo Loro Loro Stano Loro Ah E' Quella 27.000 Ovvio Attacca I nostri Alleati Nuovo Ratto Dammi Referenza Delle Mane Tharms Sono furbi Lo devo dire Però Soprima Qui Tutto Perfetto Noi Contavamo conquistare Anche se Mina Fosse Poca Niente Io Perdo Tantissimi Uomini Vediamoci Qui A Madrid Vabbè Non Stanno Loro Qui Stanno Poi Perdendo Perché Non Abbiamo Niente Conquistato 24.000 Perché 24.000 Com'è Che Perdo Uomini Così A Caso Proprio Sto Passa Da Quest'uomo Nobazia Dove Sta Ah Qui Mi piace L'idea Il secondo Soprima 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 Quanto Soprima Soprima Di Meno Molto Meno Soprima Qui Perché Invalidata Ah Perché Non C'è Ma Vaffangala Dai Che C'entra Stress Mi Da Stress Perché Non C'è Il controllo Mi Da Stress Adreno È Morto Sono Morti Bravo Soprima Di Greco Tre Mesi Qui Vediamo C'è Tutto Il nostro Teritorio Che Vogliamo Sì Manca Solo Soria E Poi Vediamo Di Fare Un po' Di Gruppe Cosa Vuole Questo Small Boost Andiamo C'è Se Non Si Arrabbia Proprio Fare Questo Andiamo A Soria Lui Dice Per Di Fare Una Trappo Se Capito E No Se Arriva Uno E Poi Arriva Anche L'altro Attenzione Sono In Parità Arrivati I Nostri Alleati Li Facciamo Male A Tutti Quanto Sono Dicimila Posso Diciamo Vincere Una Battaglia Perfetto 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 Ripidiamoci Ciò Le nostre Battaglie Meno 50 Addirittura 84 Mi sa Pesso Lì Dove Sbrigarmi Andare A conquistare Però Intanto Fiamo Se vuole Quando L'Ossia Perfetto Enforce Demand So Be Hit Riuniamoci Andiamo Qui A Oviedo Allora Burgos Grand Tu Io ho qualche figlio Se ne sposare Su marito Non ha niente Perché Ampellas Non c'è Il senso Perché Ave Il figlio Non lui Deve Si è Sposata Da sposata Allora Lugia Borgogna E la piccoletta La piccoletta Arrange Marriage Marineare Ovviamente Ah no Fine Spos Scusate No Regge Marriage Marineare Diferenza Tra 5 E Si sceglie Il giusto Anatolico Nei siamo Alleati Coimbra Emelot Al Said Duca Di 3 Seconda Il Duca Chajazira Borgogna Del posto Croazia Non è male Con l'ordine Anche potente Ah È stato Beautiful Hill Si E il suo figlio Non è l'ereda Qua c'è problema Che abbiamo Oddio Siria Navarra Azov Africa Astoria Astoria Giusto Giusto Ora Giusto Giusto Ora Maletta Siria Ho preso Anche un'ottimo Spy Master Maximo Stice Assolutamente Voglio Qui Sai che Nora Astoria Tantissimo Eh Ma Tanto Tantissimo La Tantissimo Continuo Sì Sì Andiamo a Poi Nel frattempo Mia figliola la mia figliola cosa vuole questo? no si vabbè ho fatto un venere a guardare no la mia ultima figliola questo ragazzo non ha niente grand title diventi tu perché ho usato la mia figlia voliamo a lui ho usato la lei no non posso niente e duca di castiglia usurpiamolo e lo diamo a lui stiamo avendo troppo educati grand title duca di castiglia anche il nuovo bosnia è nostro questo abbiamo avuto problemi e la castiglia sta qui lo sono già scappando come vedete marrani lo chiamiamo qualche alleanza questo è quello facciamo dopo dopo è buono ci penso dopo e allora allora monterei ottimo deray danese member kingdom di italy che deve essere forte si 8000 vai independence war poi metti un'ottima pausa eccellente metti pausa un'ottima favore pity on a kiss dove sta quest'uomo è in pirababassina o independence war e mila non c'è tra mai cioè non mi serve tu come sei nessun uomo 4000 independence war perché scendono poi la cortica il duca di osepio independence war re d'aquitania independence war e l'aquitania ha fatto guerra e poi viene a fare la guerra con me bellissimo questo clemson independence war independence war penso che lo abbassino va così ok 60.000 vanno alla navarra non posso ok perdiamo quanti uomini 1530 vabbè ormai che fatto è fatto ne fatti abbiamo un po' di ransom da fare devo dire che non gli spiacciono cosa vuole ma si accetto va la città è caduta già si l'invito poi c'è chi c'è si sono tutti qui loro africa venezia come sempre e siria e quella regione è qui e il capo è la siria quindi io con questi uomini potrei partire per l'africa perché da qui c'è delle anze quindi partiamo con l'africa e va bene così altri soldi si possono fare se è possibile 10 perché troppe cose appaiono cioè perché si muove nel momento lo bosnia si lo bosnia che è di mia madre era chi c'è qui lo bosnia c'è questo uomo qui tosta dalmata tosta dalmata il soldi è che è questo il fratello così tutti i fratelli sono eredi ma io farei assunto ok la città gran tu nome coltura greca e questo uomo diventa duca gran title ok e il dolbo si va a tenere alla croazia giusto si quindi tu vai a croazia che è già tutto mascherato poverino ora la la basa bosnia e la diamo se vuoi gran tu vassal tiè croazia felice qua c'è delle pezze di perché è mia questa è morta il duca è lui il duca e perché sei con me gran tu vassal non posso vedo lui lui si gran tu vassal perché sono mie quella sebbiano è mia cioè mi basto diretto giusto così la casilla a pezzi là e noi qui stiamo cercando di partire siamo a di registrazione qui stiamo vincendo Volosod Dove sarebbe scusami Ah qui si sto qua Ah perché hanno questa città qui in pratica Hanno non solo qui i dettori al nord Ah non ci sono più lì No lo so vabbè White peace Vorrei anche accettare per ora Facciamo quello con calma Qui hit and run Corri e colpisci Cerco pisci e corri Abbiamo guerra da fare la facciamo subito Sono questi uomini eccoli qua Siamo già a 40% E questa cosa buona Perché abbiamo l'abilità di Vinci la guerra con meno di quanto ci si bisogna No Com'è in carcere scusami Ah perché è sua Attanasia Guarda questo che è un maledetto Ho messo anche mia figlia Dov'è Ransom No aspetta una guerra Ok qui sono conquistate Siamo già al 53% E altre mince sono lì Le andiamo a picchiare Per bene Prendiamo altri uomini ma Se la vi Duomo artefatto Sì Via dell'orchidea che non mi serve a niente Ecco la guerra è vinta Enforce di masso Be it Disband All E allora L'Africa Carissimo Tu hai l'Africa giusto A parte questa genere qui Allora Retract Vassal Quest'uomo qua Perfetto E tu hai questo Che deve essere appunto Africa Perfetto Come è giusto che sia Poi Ransom Testanta 3 E accettiamo Testanta 3 Va bene così E sei libero così E ti fa la tua bella guerriciola Questo qui Duca di gatto Possiamo fare Il regno di Sara No C'è manco un bel po' Poi Asturia Carissimo Ti viene un grande vassato Mi fai questo Revoco title Ti do qui Il tutto Suo figlio E qui Può entrare poi Beh si Revoco title Todosio Invita al corte E questo Un terreno asturo Lo diamo poi Al nostro A qui Il ragazzino qui Che è marineale Quindi C'è Viene dentro Di dare Questo Omino a 6 anni Leggermente Arrede a Sturia Ma non Leon Che è Leon Dove sta l'uomo Grande title E Ducato di Leon C'è già tutte le famiglie In carcere Negoti release Renounce claim Recrutiamolo Ok Tante cose Abbiamo fatto Per ora Mi spiego È lui Tantissimo Però Siamo contato male Io voglio Da Iaragon Addirittura Lui Mi ha fatto questo E lui Mi ha fatto questo Grand Vassal Leon Armagnac 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 È mia Com'è possibile Siamo espanse Fino a Armagnac E non posso Dargli Armagnac Perché se no Lui Zamora Ha solo questo Non ducati Amann Che è mio figlio Quindi non posso Non posso E abbiamo Tidori in più Così Anche capire Come mai Poi l'altro Era Nemico Sbaglio La Siria Carissima Siria Tu hai soldi Si 340 Però hai anche Troppi territori Che la Siria Beh Hai un po' Di territori Che non sono Tuoi Fatelo dire Siria Carissima Revoco Title Non è niente suo Ok Ha solo Damasco E tu Vuoi fare La guerra a me Retract Vassal Ci prendiamo Questo La Siria Venta quello Che è giusto Che sia Palmira Vole essere Siria Sì Perfetto Tu sei 22 Mini spiagno Tu che De Dessa Vuole Tu che De Dessa Scusate Dove sarebbe Eh no E Dessa Non è più Ma perché Dessa è Siria E lui che è Troppo potente E allora Se non è qui Dove essere Pontus Aia Stan Che non c'è Il regno Sì c'è lui Che ho Mio assallo E che Ha adesso Poco e niente O il Pontus Il Pontus Ma è più Deve Quindi Grand Vassal Rai che Dentro Qualche territorio Revoco Title Sarei Un Tiranno Devo fare Un claim Qui Allora Sturia Lascia Stare Per claim Su Aziz Giusto Aziz Che c'è Perfetto E potremo Adessa Al nostro Re Siriano Che però Lo liberiamo Quindi Ransom 200 Va bene Poi ci Alzo Perché da poco Ho messo unito Cioè se Noi da poco Già mi fai Guerra Perché Mi vuoi così Male Me lo dici Ransom 100 Perché non sono Il giusto Re C'è la Circassia Dove essere Il giusto Però nel frattempo Ripiamo quell'uomo Lì Ok Qui c'è ora un bel po' di tempo 3 anni Addirittura Mentre però Stiamo cercando di fare Tutto ciò che è necessario Drink up my friend Beve Amico mio Allora Miglioriamo Roma Vedendo una gran città Mentre Da 7 anni Qua c'è un ransom 25 Paghiamolo 10 Si paga Mettiamo play E abbiamo un bel po' di soldi Prince Bosporius Dell'Alta Ragondi Dittura Mmm Non ti posso Ritutare No E allora Arriviamo per 100 Va Si pagherà solo lui Un grande uomo Ma non è che stai conto Vieni da noi Vieni dai su Vieni con noi Qui altri soldi che entrano Te lo fanno Uccio tanti soldi qui Tanti 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 35 Grandissimo Dispettamento Volare alla corte Che ci ringrazia Anche per quello che abbiamo fatto You gain Reusing metal Distruggiamo questo O se no Distruggi E ci da quel tatto nuovo Despota di Venezia Sempre tu Venezia Sempre tu Se sei debole E fai le guerre Perché Ma sei cretino Non so Scusa se offendo Ma veramente Sei solo debole Ma cosa vuoi di più Della vita Ci ho dato anche un bel regno E tu mi fai questo Se hai poco Ti ingrandirò Non ti occupare Assurdo sta cosa Comunque ragazzi L'impero romano Cresce ancora Abbiamo Ecco Di cose Qui da togliere Deve togliere tutte Se è possibile Il despota Comandiamo 100% Togli il despota 100% Cosa vuoi migliorare ancora Siamo nell'anno 1269 Tante conquiste fatte Ormai Siamo un'impero Bastante Potente Presto Potremmo anche Vassare Per l'oltre Siamo Da 2000 Uomini Di nostro I vastati Come vanno 76 32 Sale M 150 Sticola Non ci interessa Anche se Però è potentissimo Batman Com'è possibile Così potente E poi non posso Ne consiglio Lascio uno su lui Starskim Così che Batman Lo sistemiamo E il papa 8.000 Uomini Sistema Un po' tutti Perché quando farò Questo In platea Del meno 10 Pignoni Sono 10 Io lo faccio Ci rischio Quando abbiamo 5 ducati È un bel po' di leve L'impero Si sta espandendo Poi stavamo anche La sardina Da fare guerra Questo uomo Non è sposato Range marriage No Ma tu non ti vuoi Vassalizzare No Per meno 45 Perché è un despoto Non è un alto E follice Blah 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 Però se fosse Un alto e follice Avremmo tutto Quindi abbiamo creato L'impero D'Italia Perché 30 Su 10 10 Ai 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 Peccato 30 su 10 10 su 30 E vabbè Comunque Fino a qui Di oggi Imi lascia un like A commentare E di la vostra In che sono Lo avete fatto Iscrivete al canale E attiva le campanelline C'è notifica Nel video che usciranno E vi consiglio Sevi su canale Viola Do provare live E su vari social Come Facebook Instagram TikTok Così per salire Più sul mio lavoro Codervi altri contenuti Unitiliari Da mie offerti Noi ci vediamo Un prossimo episodio Dove su Mr Terry E basta chiudo Il libro Grazie.